Ben tornati al consueto appuntamento con l'informazione del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Nella seduta di martedì 25 l'Assemblea ha abrogato la norma che consentiva ai consiglieri della precedente legislatura, rieletti in quella attuale, di incassare l'indenità di fine mandato e anche approvato il rendiconto generale della Regione 2012. La prossima convocazione è prevista per il 2 dicembre e tra gli altri argomenti all'ordine del giorno c'è la seconda lettura della modifica statutaria che prevede tra l'altro l'istituzione della figura del sottosegretario e la presidenza della giunta regionale. Capiamo argomento, il gruppo consigliere di Forza Italia ha presentato un progetto di legge che prevede l'istituzione di un unico centro di ricerca regionale che incorpori il Cotiri, il Crabbe e il Crivea. Sentiamo il consigliere Mauro Febbo. Si parla di ricerca, ci si riempie la bocca ma poi nessuno fa nulla. Noi abbiamo presentato questo progetto di legge che speriamo che venga presto esaminato dal consiglio e venga approvato perché dà una risposta concreta. Abbiamo tre centri di ricerca, quello il Crabbe di Avezzano, il Cotiri di Vasto e il Crivea di Milianico che oggi sono al servizio dell'agricoltura. Riteniamo che questi tre centri debbano essere unificati, quindi eliminare anche costi nei vari CDA, quindi veramente di ridurre ancora di più i costi al massimo, ma soprattutto che vengano posti al servizio dell'intera regione Abruzzo, quindi anche del settore economico, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, d'altronde lo sanno fare, sono bravi, hanno le capacità, sono professionali, ma soprattutto diamo anche una risposta concreta a quelli che poi sono i problemi finanziari di questi tre centri. Questi centri vivono soprattutto di progettazioni che possono rispondere a bandi europei, non hanno però la liquidità, la capacità di accedervi perché mancano la liquidà iniziale. Allora abbiamo creato un fondo di rotazione che viene messo a loro disposizione di 3 milioni di euro, un fondo che viene messo a disposizione per poter accedere ai bandi, di pagare le spese, di pagare i professionisti, di andare avanti nei momenti in cui fanno la rendicondazione e ottengono il rimborso da parte dei fondi comunitari o dei bandi a cui accedono, rimborsano in regione Abruzzo. Mi sembra un modo intelligente e veloce per dare una risposta concreta e soprattutto dare una risposta alle tante professionalità che sono dentro questi centri. Apriamo adesso una pagina dedicata ai trasporti. Iniziamo dall'incontro che c'è stato nei giorni scorsi a Pescara a cui ha partecipato l'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato Michele Elia che ha annunciato una serie di interventi per migliorare la qualità del servizio in Abruzzo. E per il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio in questo modo si scongiura il rischio isolamento per la nostra regione. E' importante perché si toglie definitivamente l'abruzzo dall'isolamento in cui è stato messo in questi ultimi anni. La linea adriatica deve essere potenziata soprattutto il collegamento sia verso nord che verso sud e questo è uno dei temi oggi dell'incontro che si è organizzato. L'altra questione riguarda le aree interne che non possono rimanere isolate. C'è questa linea ferroviaria Pescara, Sulmona, Avezzano, Roma che in qualche modo deve essere potenziata nel verso di riduzione dei tempi. Accendo solo una cosa, nel 1970 il tempo di percorrenza Pescara-Roma era di 3 ore e 7 minuti, oggi è di circa 4 ore, qualcosa non va, siamo tornati indietro nel tempo, nel senso che aumentano i tempi di percorrenza pur essendo passati oltre 40 anni. E se da una parte c'è un problema che si avvia a soluzione, l'aeroporto d'Abruzzo si apre un'altra emergenza. Il Ministero dell'Interno infatti ha intenzione di chiudere il posto di polizia di frontiera nello scalo di Pescara e questo metterebbe a rischio la permanenza dei voli internazionali all'aeroporto. Il Presidente di Pangrazio ha incontrato una delegazione del sindacato di polizia SAP a cui è assicurato l'intervento del Consiglio regionale. Noi ascoltiamo il segretario provinciale, Gianpaolo Guerrieri. Lo sceric si profila con questa bozza, ovvero della previsione della chiusura dell'ufficio di polizia aerea e marittima di Pescara, un declassamento, quindi una censura da parte della comunità europea sul mantenere le tratta extrascene all'aeroporto di Pescara. Questo significherebbe ovviamente la morte di un'economia della regione Abruzzo perché togliendo questo importante scalo aeroportuare sia di mare che di aereo da Pescara significherebbe tagliare completamente fuori una regione in questo periodo già di per sé di crisi economiche. Dal punto di vista di spendi review non c'è nessun tipo di risparmio perché sono strutture a costo zero per il Ministero dell'Interno che garantisce e garantisce in questi ormai dieci anni una funzionalità e un'operatività indiscutibile. Rimaniamo a Pescara dove c'è stato un primo incontro per definire le strategie di partecipazione dell'Abruzzo all'Expo 2015 di Milano a cui è partecipato anche il sociologo Aldo Bonomi. Per il consigliere del PD Camillo D'Alessandro la vetrina milanese è una grande opportunità da accogliere per la nostra regione. Abbiamo un obiettivo per meravigliare il mondo, questo è l'impegno che noi assumiamo come regione Abruzzo all'Expo. In questa grande esposizione dove ci sarà tutto il mondo e tutte le regioni l'obiettivo vuole meravigliare il turista e l'operatore economico che arriva. È in atto un cantiere in Abruzzo e a Milano per la nostra presenza. Noi garantiremo la presenza non solo nel sito dell'Expo ma anche nella città di Milano con una nostra location, con una casa Abruzzo e poi con eventi, ponte, collegamento tra ciò che accade a Milano e ciò che accade a Abruzzo. E in Abruzzo è un grande cammino che porterà a descrivere la nuova regione. Ci spostiamo a Pizzoli, in provincia dell'Aquila, dove il presidente Giuseppe Di Pangrazio ha incontrato il sindaco della cittadina Angela D'Andrea nell'ottica di quel progetto di collaborazione interistituzionale che proprio Di Pangrazio ha scelto di avviare con altri enti. Ma sentiamo il sindaco D'Andrea. Trovare una regione che in qualche modo interloquisce con i comuni è fondamentale. Uno perché proprio per il rapporto che ci deve essere di collaborazione, di sussidiarietà e poi per essere ascoltati, perché il problema di un sindaco è il problema di tutti i sindaci. E ieri all'Università dell'Aquila c'è stato un convegno sulla letteratura per l'infanzia promosso dal professor Giuseppe Cristofaro, per ricordare a un anno della sua scomparsa la figura del professor Franco Trequadrini, che negli anni 80 fondò, tra le prime in Italia, una cattedra di storia della letteratura per l'infanzia. Nel corso dell'iniziativa sono state premiate due tesi di laurea su questo argomento. La prima di Marianna Alfonsi, dell'Università Roma 3, e la seconda di Paolo Pozzi, dell'Università di Capodistria. Ed era l'ultima notizia, io mi fermo qui. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con il Tgweb del Consiglio regionale torna come sempre, giovedì prossimo. Grazie a tutti.